Guidò le stese contro il clan Rinaldi. La polizia ha arrestato Salvatore Fido, latitante di 30 anni, considerato elemento di vertice del potente clan camorristico dei Mazzarella. L'uomo, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nel febbraio di quest'anno per associazione di tipo mafioso, è stato bloccato dai poliziotti del servizio centrale operativo e della squadra mobile con il supporto della polizia scientifica in una villetta alla periferia di Giuliano. Secondo gli inquirenti, Fido sarebbe tra i promotori e esecutori materiali della violenta guerra tra clan con i Rinaldi per il controllo del territorio, attuata anche attraverso le cosiddette stese, sparatoria all'impazzata nelle zone sotto il controllo dei sodalizi criminali per imporre la presenza e la violenta prevaricazione. Il latitante, secondo gli inquirenti, è certamente un personaggio di primo piano del clan Mazzarella, nel quale ha assunto le redini alla stregua di soggetti come Salvatore e Maurizio Donadeo. Grazie. 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 Grazie.